E' felice di ospitare quindi un coro e di farlo insieme a un quartetto, un poker di accademici che sono qua, che hanno accolto anche il nostro invito ad essere presenti. E mi piace molto questo che lo faccia un coro di Arezzo perché come dire di là dai monti evidentemente c'è qualcosa che ci lega nonostante una strada pessima e che però insomma vede invasare un buon biografo di Raffaello, non ha preso tutto del giusto però insomma era un bravo ragazzo. E quindi il mio benvenuto è semplicemente coronato da un grazie enorme al Maestro Bastenelli e a voi di aver accettato appunto di venire nel nostro cortile. Grazie. 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 Grazie.